Che cos'è che mi permette di realizzare ottime immagini? E' più importante il corpo macchina o l'ottica che andiamo a montare su di esso? Oggi andremo a rispondere a queste domande e cercheremo di capire come fare l'acquisto migliore in maniera tale da non ritrovarci con una camera eccezionale che però non va bene per le nostre esigenze. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo, come detto, a parlare di corpi macchina e ottiche. In particolare andiamo ad affrontare lo spinoso tema su quali delle due sia meglio investire e questo è un video che si potrebbe rifare una volta all'anno, potrebbe diventare una rubrica periodica e ogni volta ci sarebbe qualcosa di diverso da dire. Perché se una volta era più facile districarsi in quest'ambito adesso diventa sempre più complicato perché ci sono tanti produttori, ci sono nuovi player che entrano in gioco come Sony che una volta non faceva fotocamere o quantomeno non ne faceva a un livello avanzato come le sta facendo adesso mentre ora è entrata a gamba tesa e sta dando delle spallate a tutti quanti. Esistono anche degli altri player come per esempio Fuji che non è conosciutissima però ultimamente ha sfornato dei sensori APS-C con dei corpi macchina che fanno veramente paura. Quindi diventa veramente complicato andare a scegliere perché non esistono più solo Canon e Nikon non esiste più solo Hasselblad e Leica, esistono tanti player quindi diventa complicato andare a scegliere il corpo macchina e di conseguenza anche l'ottica. Io oggi sono qui per raccontarvi la mia visione, quello che è di solito il faro nella notte che deve guidare la nostra scelta. Nel momento in cui noi decidiamo di comprare una macchina fotografica ovviamente dobbiamo aver sentito il bisogno di acquistarla. Vuoi perché il cellulare non ci basta più, vuoi perché vogliamo fare qualcosa di particolare, vuoi perché siamo appassionati di fotografia e magari abbiamo una vecchia fotocamera a pellicola e vogliamo passare al digitale, oppure magari perché abbiamo una vecchia fotocamera compatta e vogliamo passare a un corpo macchina un pochino più complesso. Insomma esistono diversi motivi per cui uno può decidere di acquistare una fotocamera. In quel momento ovviamente si entra in negozio, ci si trova di fronte a centinaia di modelli e bisogna operare una scelta che sarà sicuramente influenzata prima di tutto dal prezzo perché queste sono apparecchiature che non ti regalano mica. Dovremmo quindi optare per un brand piuttosto che per un altro e molte volte quando si è alle prime armi, quando si è inesperti, si sceglie semplicemente sulla base della simpatia che si prova per un brand o per l'altro. Si sceglie sulla base del colore del logo. Per esempio abbiamo il logo di Canon che è rosso, il logo di Nikon che è giallo, per cui andiamo a operare una scelta basandoci su una preferenza di pancia. Andiamo a dire proprio a me piace di più il rosso, a me piace di più il giallo. Se siamo veramente alle prime armi questa è una cosa che vi assicuro succede. Ci si trova bene poi in entrambi i casi perché comunque non è che si sta comprando una cosa che non funziona perché il logo ci ha ingannato. No, no, assolutamente. Il logo riflette quelli che sono i valori dell'azienda, però sono tutti prodotti che funzionano. Quindi una volta che noi torniamo a casa abbiamo acquistato un qualcosa che funziona benissimo però non abbiamo operato una scelta consapevole ai massimi livelli. Abbiamo semplicemente scelto quella che ci piaceva di più così a naso. Ora, posto che di nuovo una volta era più semplice ma adesso con tutti i modelli che ci sono diventa più difficile operare una scelta ma è anche vero che molti dei modelli che andiamo a scegliere ormai sono ibridi. Quindi se stiamo pensando a una fotocamera sicuramente farà anche i video se stiamo pensando a una videocamera sicuramente farà anche le foto ormai c'è un po' questa convergenza per cui è difficile trovare una cosa che faccia bene una cosa soltanto. Vi faccio l'esempio della Sony Alpha 7S III una videocamera che ho avuto il piacere di provare nei mesi scorsi nonostante faccia anche le foto perché di fatto è una fotocamera come costruzione però è pensata per fare video. Infatti ha delle specifiche foto abbastanza deboli e delle specifiche video che sono assolutamente stellari. Ecco questo è l'esempio perfetto di come sia necessario conoscere in anticipo quello che si sta comprando perché bisogna sapere quali sono le specifiche e di conseguenza bisogna riuscire a prevedere che cosa ci si riuscirà a fare con questa fotocamera o videocamera. La chiave di tutto è proprio questa. Io devo avere ben chiaro per che cosa la userò perché se io acquisto una Sony Alpha 7S III per fare fotografia di paesaggio sto spendendo un casino di soldi ma non sto facendo un buon acquisto perché stiamo parlando di una fotocamera con un'ampia gamma dinamica un sensore da 12 megapixel quindi è un sensore con fotodiodi più grossi ma con meno megapixel quindi con meno risoluzione. È una fotocamera perfetta per fare degli ottimi video. È una fotocamera che registra nativamente mi sembra 10 bit 422 quindi una videocamera fantastica che ci darà un file d'uscita video strepitoso però non ci darà altrettanto sul versante foto perché sì, la qualità sarà sempre quella ma la risoluzione sarà parecchio inferiore a quello che ormai è lo standard. 12 megapixel è veramente un po' pochino adesso io non dico che si debbano per forza avere 40 megapixel come sull'iPhone 14 Pro però 12 sono veramente un po' pochi 12 è un utilizzo abbastanza limitato non possiamo per esempio stampare la doppia pagina su una rivista, su un magazine e questo a me dà sempre un po' fastidio il fatto di non avere la possibilità di consegnare la mia foto in formato da doppia pagina mi dà sempre un po' fastidio sarà che ho cominciato la mia carriera lavorando per una rivista ma mi è rimasta sta cosa la foto deve essere grande abbastanza per coprire una doppia se te la chiedono altrimenti è come se ti mancasse sempre qualcosa perché questo succede ovviamente? perché quella particolare camera è pensata per il video quindi sul video è strepitosa, eccezionale lecce da tutti i formati che ci servono 4K a 120 frame al secondo full HD a 240 frame al secondo dei codec strepitosi è una videocamera meravigliosa però ripeto se la compriamo per fare fotografia di paesaggio non stiamo facendo un buon acquisto per fare fotografia di paesaggio sarebbe molto meglio una fotocamera sempre full frame perché abbiamo bisogno di un sensore full frame per avere il grand'angolo ma con un sensore con un pochino più di megapixel anche perché se facciamo paesaggio tutta quella gamma dinamica sul singolo scatto non ci serve perché se facciamo paesaggio è un contesto statico quindi possiamo benissimo fare il bracketing e ce la caviamo benissimo anche se la gamma dinamica è da 12-13 stop invece che 15 per esempio con questo che cosa possiamo dedurre? nel momento in cui andiamo a comprare un corpo macchina dobbiamo sceglierlo ovviamente in base al prezzo e quindi dobbiamo sapere che esistono fasce di prezzo molto differenti le dividiamo fondamentalmente in ammiraglie ovvero la fotocamera più costosa e più prestante di quella casa per cui abbiamo l'ammiraglia di Canon, l'ammiraglia di Sony, l'ammiraglia di Nikon ogni casa ha la sua ammiraglia è semplicemente la fotocamera più figa che hanno non è assolutamente detto che sia quella fotocamera che dobbiamo comprare intanto perché di solito costa svariate migliaia di euro stiamo parlando di 6, 7, 8 mila euro per il singolo corpo macchina è un corpo macchina che ha delle caratteristiche ben precise di solito è molto veloce la maggior parte delle volte sarà dedicata a professionisti di settori estremi come possono essere lo sport tipo Formula 1 o MotoGP quindi sport molto rapidi oppure la fotografia wildlife di precisione per esempio se devo fotografare un colibri mentre sto appeso a un'imbracatura di fianco a una cascata perché lavoro per National Geographic avere una fotocamera che non perda un colpo è un fattore chiave ma solo in quei casi serve una fotocamera con quel livello di prestazione nella maggior parte dei casi è assolutamente sconsigliabile acquistare un'ammiraglia subito dopo abbiamo i corpi standard professionali che di solito si aggirano fra i 2 e i 4 mila euro sono dei corpi macchina che vanno bene sempre sono tropicalizzati come le ammiraglie hanno delle prestazioni assolutamente sbalorditive e diciamo che coprono un po' tutti i settori professionali a cascata poi abbiamo le entry level full frame e poi abbiamo le APS-C che vengono un po' considerate le sorelline minori perché hanno dei sensori più piccoli anche qui abbiamo l'ammiraglia APS-C e poi a cascata abbiamo dei corpi macchina sempre meno prestanti ora che cosa cambia tra i corpi più prestanti e i corpi meno prestanti? dobbiamo andare a capire che cosa c'è di differenza innanzitutto bisogna cercare di andare a capire che tipo di sensore e di processore montano c'è stato un tempo in cui un corpo macchina più progredito aveva un sensore dedicato e un processore dedicato migliori rispetto a quelli dei modelli che seguivano a cascata talvolta c'erano due processori in serie per cui la fotocamera andava più rapida ora devo dire che la produzione si è abbastanza assestata nel senso che i vari produttori stanno prendendo la loro migliore tecnologia e la stanno applicando a cascata anche sui modelli meno progrediti questo che cosa significa? che nel momento in cui noi andiamo a prendere un'ammiraglia abbiamo quel sensore e quel processore nel momento in cui andiamo a prendere una professionale quindi siamo scesi di uno step molto probabilmente avremo esattamente lo stesso sensore e lo stesso processore quindi che cos'è che cambia? cambiano alcune feature quindi per esempio avremo meno raffica avremo magari meno punti di messa a fuoco avremo meno tasti sicuramente in ambito professionale è molto importante avere tanti tasti personalizzabili e la possibilità di ruotare la camera per scattare sia orizzontale che verticale quindi con le ammiraglie abbiamo la possibilità di fare tutto questo via via scendendo di livello ci vengono tolti alcuni tasti ci vengono tolte alcune funzioni un altro esempio è che sulle ammiraglie c'è quasi sempre la possibilità di girare con la massima definizione possibile per quella casa produttrice quindi per esempio abbiamo magari il 6k row scendendo di modello magari abbiamo solo il 4k quindi ci sono tante cose da tenere a mente man mano che saliamo di livello con i corpi macchina vengono sostanzialmente aggiunti dei bottoni vengono aggiunte delle prestazioni che sui corpi inferiori non ci sono però quello che dobbiamo tenere a mente è che probabilmente la qualità del file d'uscita può essere molto simile sia per la fotografia che per il video salvo casi dove magari stiamo parlando di un'ammiraglia che ha il 6k row e invece sulla professionale abbiamo solo il 4k però per quanto riguarda il sensore la qualità del sensore è abbastanza simile quindi non dobbiamo farci scoraggiare dal fatto che non possiamo comprare un'ammiraglia perché spesso e volentieri se compriamo uno dei modelli che sono seguiti a cascata alla tecnologia implementata sull'ammiraglia è probabile che la qualità del file d'uscita sia molto ma molto simile molto simile non uguale però più delle volte la qualità di un'ammiraglia non ci serve se andiamo su una professionale abbiamo tutta la qualità di cui abbiamo bisogno se andiamo su una PSC quindi siamo molto più giù di fascia di prezzo probabilmente ci troviamo con un qualcosa che non è scadente ha semplicemente una costruzione diversa e quindi è in grado comunque di portare le nostre riprese a 4k è in grado comunque di portare i nostri file a 30 megapixel o anche di più quindi tenete conto questo ovviamente è vero che più paghi e più ottieni perché è vero che più è costosa l'attrezzatura che stai comprando e più ti dà però il più delle volte bisogna cercare di capire fino a che punto la useremo fino a dove ci serve e vi faccio un esempio io il 6k raw non lo userò mai nella vita credo perché non faccio produzioni dove mi serve mi è molto più congeniale girare in 4k in formato log così ho tutto quello che mi serve e credo che questo setup io in questo momento sto usando la Canon R7 credo che questo setup lo userò molto molto a lungo perché non è neanche uno standard è superiore allo standard mi dà tutto quello che mi serve non ho assolutamente necessità del 6k raw quindi non ho necessità di comprare una fotocamera o videocamera che mi dia quel tipo di qualità e quindi risparmio sul corpo macchina non prendo neanche una full frame prendo una PSC quindi spendo 1500 euro per la R7 invece di spendere 2600 euro per la R6 che è una full frame che mi farebbe dei formati video raw più pesanti non lo faccio anche perché quei formati pesanti verrebbero molto difficili da digerire per il mio computer quindi cerco di attestarmi su un qualcosa che riesco a gestire in post produzione perché tenete conto che comprare un'ammiraglia e poi avere dei file così pesanti che sono difficili da gestire può essere un boomerang perché poi dovete comprare anche il computer nuovo e dovete spenderci anche dei bei soldi perché non basta un computer nuovo ci vuole un computer della madonna per gestire quei file quindi anche questi sono ragionamenti da fare in ultima analisi veniamo anche al tipo di sensore perché noi possiamo scegliere tra diversi tipi di sensori quando acquistiamo una fotocamera o videocamera possiamo scegliere un sensore full frame che ormai non dico che sia diventato lo standard però professionalmente è molto diffuso possiamo scegliere un sensore APS-C quindi che è un pochino più piccolo e quello probabilmente è il vero standard perché i sensori APS-C sono più venduti dei sensori full frame è pieno di sensori APS-C la fuori ci sono un po' di meno di sensori full frame perché tutti gli amatori tutti i non professionisti tutti i dilettanti totali di solito comprano un APS-C piuttosto che un full frame perché costa di meno poi ci sono i micro 4 terzi e poi via via ci sono sensori sempre più piccoli io oggi mi concentro solamente sui primi due ovvero sui full frame e sugli APS-C anche perché sono quelli un pochettino che stanno andando per la maggiore se vogliamo la massima qualità possibile andiamo di solito su un sensore full frame stiamo parlando di mercato professionale e mercato consumer e prosumer ovviamente poi ci sono mercati a parte se vogliamo andare sui sensori migliori che possiamo avere magari andiamo su Hasselblad ma lì sono dei sensori di un formato completamente diverso sono sensori più grandi e hanno dei costi che non esito a definire proibitivi stiamo parlando magari di 40.000 euro per il solo corpo macchina e 30.000 euro per l'ottica quindi lasciamoli un attimino fuori dall'equazione e concentriamoci su un qualcosa che ci possiamo permettere dicevo quindi esistono i sensori full frame che sono dei sensori abbastanza grandi stiamo parlando di un 24x36 mm che è esattamente l'equivalente del formato della pellicola fotografica che si usava una volta quindi il sensore deriva da lì subito dopo abbiamo il sensore APS-C che è più piccolino è più piccolino ma il formato rimane lo stesso che fondamentalmente è un 3x2 o 2x3 a seconda di come la teniamo orientata quindi è un formato standard diciamo che il rapporto tra lato lungo e lato corto delle nostre foto rimarrà lo stesso a meno che non lo modifichiamo perché poi sul digitale adesso possiamo dirgli di scattare in 16 noni possiamo dirgli di scattare in 4 terzi possiamo avere tutta una serie di opzioni in più però nativamente il sensore è grande 3x2 quindi ogni modifica che andiamo a fare stiamo sostanzialmente buttando via dei pezzettini di immagine quindi io consiglio di lasciarlo a 3x2 a meno che non stiamo facendo video lì è 16 noni e va bene per cui il rapporto rimane lo stesso però la dimensione è diversa quindi che cosa succede? se noi stiamo lavorando su un sensore full frame ce l'avremo di una certa dimensione se stiamo lavorando su una PSC è più piccolino questo comporta una variazione di resa per quanto riguarda le ottiche quindi se io monto un 16 mm su un sensore full frame avrò effettivamente l'angolo di campo di un 16 mm e la profondità di campo di un 16 mm se invece lo monto su un sensore a PSC non vedrò più un 16 mm perché il mio sensore è più piccolo e quindi vedrà solamente la porzione centrale della mia ottica da 16 mm quindi la mia ottica da 16 mm verrà moltiplicata per un fattore di moltiplicazione che dipende dal sensore mi pare che sia 1,6 per Canon e 1,5 per Nikon e qualcun altro ha fattori di moltiplicazione diversi sentivo di recente per esempio non me lo ricordavo più che esistono altri produttori mi ricordo se Fuji o Olympus non me lo ricordo perché l'ho sentito dire ma non mi ricordo e non ho quei modelli quindi non ci ho messo mano e quindi potrei dire una stupidata però ci sono dei produttori che hanno un fattore di moltiplicazione di 2 addirittura quindi un'ottica da 24 mm diventa un 48 quasi un 50 quindi dipende molto dal produttore e da quello che stiamo utilizzando però quello che ci dobbiamo ricordare è che nel momento in cui prendiamo una full frame avremo effettivamente l'ottica che stiamo comprando nel momento in cui compriamo una PSC dovremmo moltiplicare la lunghezza focale non avremo esattamente la lunghezza focale che troviamo riportata sulla lente ovviamente i produttori ci vengono un po' incontro perché noi possiamo scegliere di prendere un'ottica di qualità e quindi un'ottica full frame perché le ottiche di qualità più alta vengono pensate per la fascia alta per le full frame possiamo prendere una di quelle ottiche e montarla sul nostro sensore APS-C quindi avremo la massima qualità possibile però non avremo effettivamente quello che c'è scritto sulla lente perché se prendiamo un 24-70 mm non avremo effettivamente un 24-70 avremo 24x1,6 70x1,6 quindi sarà più lunga questo può essere un vantaggio se facciamo generi fotografici in cui ci fa comodo avere un pochettino più di tele se stiamo per esempio facendo sport o natura ci fa comodo che un 600 mm venga moltiplicato e quindi sia più lungo di 600 mm se invece stiamo facendo come nel mio caso fotografia di interni o fotografia di paesaggio non ci fa così tanto comodo perché lì invece ci servirebbe il grandangolo questa distinzione ci fa capire come sono diversi i vari corpi macchine abbinati alle varie ottiche che possiamo comprare anche se i produttori ci vengono comunque incontro e sfornano delle ottiche che sono equivalenti per APS-C quindi se io voglio il 16 mm su full frame prendo effettivamente il 16 mm se lo voglio su APS-C devo aspettare che la casa produttrice mi sforni il 10 mm e che un 10 mm su APS-C diventerà un 16 quindi esistono le ottiche per APS-C comunque vengono sfornate di continuo in maniera tale che si riesca ad avere un equivalente però qual è il problema? che l'ottica originale per full frame è molto più bella dell'ottica APS-C quindi questo che cosa ci dice? se vogliamo la massima qualità sul grand angolo dobbiamo andare sul full frame perché solo così avremo sensore di qualità e per carità ci sta magari qualche feature in più sul corpo macchina ma diciamo anche che non ci interessa noi stiamo solo pensando alla resa finale e se noi vogliamo la resa migliore possibile sul grand angolo dobbiamo andare su un full frame perché anche se abbiamo una lente equivalente su APS-C non è tanto il sensore è quella lente che ci penalizzerà perché una lente pensata per APS-C quindi una lente pensata per una camera che costa meno sarà prodotta meno bene avrà una resa inferiore rispetto all'omologa per full frame quindi se vogliamo realizzare riprese grand angolari io straconsiglio di andare sul full frame e quindi costa di più paradossalmente è vero però non possiamo farci granché perché se vogliamo la qualità massima quella è la direzione viceversa se facciamo sport o natura ci conviene probabilmente andare su APS-C e in questo caso possiamo risparmiare qualcosa sul corpo macchina perché la APS-C costa di meno anche a parità di qualità magari volendo io adesso sto utilizzando R7 che è una APS-C è una APS-C che a me ha fatto schizzare gli occhi fuori dalla testa perché ha una qualità che non sfigura di fronte a Canon EOS R per esempio che è una full frame che ha lo stesso sensore della 5D Mark IV quindi è il miglior sensore che io abbia mai avuto sostanzialmente e questa camera per quanto riguarda foto e riprese non sfigura davanti alla EOS R quindi è una APS-C dalle prestazioni incredibili ha solamente quel difetto che ogni ottica che io gli monto va moltiplicata per 1,6 quindi questo a me in questo momento non interessa perché io la sto usando per fare riprese abbastanza statiche di questo tipo oppure riprese molto controllate quindi posso ho tutto il tempo di gestire quello che sto facendo e non mi serve avere per forza il 16mm su questa camera se devo usare il 16mm ne uso un'altra in questo momento io su questa camera sto usando il 24-70 per cui so benissimo che sto usando dal 38 fino al 160 una roba del genere sì è tipo un 38-160 quindi so che non posso fare riprese ultra grandangolari su questa camera al momento con le ottiche che ho dovrei comprarmi qualcosa di più ampio però la mia è stata una scelta consapevole perché mi sono detto se devo fare riprese grandangolari uso comunque un'altra cosa uso qualcos'altro uso la full frame questa è una camera che io utilizzo per fare riprese come questa per fare riprese corporate per fare riprese di prodotto cose del genere per fare macro per fare un altro tipo di cose per cui la mia scelta è stata ponderata io mi sono detto che cosa ci farò con questa camera questa camera mi va bene questa camera è meglio o peggio di EOS R6 che è una full frame e alla fine per una serie di fattori vuoi soprattutto per il prezzo ovviamente ma vuoi anche per il fatto che EOS R6 mi dava delle cose in più rispetto a R7 che non avrei mai usato e a quel punto la mia scelta è stata chiara prendo questa camera risparmio mille euro che posso investire in delle ottiche e mi ritrovo fondamentalmente con la stessa cosa per cui è molto importante partire da quello che ci serve ovviamente se vogliamo realizzare delle fotografie per il compleanno del nipotino della nostra amica magari la cosa migliore è farle col cellulare se proprio vogliamo comprare qualcosa per farle apposta io a questo punto vi direi ma comprate l'iPhone 14 Pro che è appena uscito ha delle caratteristiche assolutamente sorprendenti per quanto riguarda la fotocamera stiamo parlando di una fotocamera da 40 e passa megapixel che è una follia su un cellulare 40 megapixel è una follia per non dire altro non voglio parlare male di Apple io non sono d'accordo con questa scelta di mettere tutti quei megapixel siamo passati dai 12 megapixel che c'erano prima a 40 è vero che hanno ingrandito il sensore è un sensore più grande che quindi avrà una qualità maggiore rimane comunque follia e mi viene molto facile capire il perché di questa scelta ti fanno fare quelle foto da 40 megapixel perché pesano tantissimo perché così tu sei costretto a comprarti i modelli che costano di più che hanno più memoria perché questo è tanto quelle foto finiscono esclusivamente su Instagram nessuno stampa più niente o quasi se qualcuno deve stampare non usa l'iPhone probabilmente quindi quelle foto finiscono esclusivamente su Instagram sono grandi mille per mille per cui darmele 4.000 per 4.000 no anzi anche di più 40 megapixel cos'è? 6.000 per 6.000 cioè mi stai dando 6 volte quello che mi serve perché lo stai facendo? è semplicissimo perché così mi riempi la memoria subito e io avendo questo pensiero devo comprarmi l'iPhone da 2.000 euro invece di quello da 1.000 con la memoria più limitata alla fine secondo me è questo il motivo però polemiche a parte sulla Apple che mi piace sempre infiammare con qualche piccola polemica lasciatemi sapere in un commento che cosa ne pensate qualcuno ce l'ha già l'iPhone 14 Pro a me piace molto sto pensando di prenderlo però non posso prendere quello da 1.300 devo prendere quello da 1.800 perché mi serve un pochino più di memoria altrimenti esci vai a farti una passeggiata fai 40 foto l'hai già riempita a momenti però dicevo se stiamo facendo foto al compleanno del cugino di una nostra amica lì non è giustificata la spesa di comprare chissà cosa cioè non possiamo spendere 4.000 euro tra ottica e lente per fare un servizio fotografico del genere che non è neanche un servizio è un favore che ti ha chiesto l'amica a quel punto con un ottimo telefono te la cavi benissimo lo stesso dipende sempre da cosa ci stiamo facendo se è il compleanno di un'amica io mi faccio un regalo mi compro l'iPhone 14 Pro e con quello le foto al compleanno dell'amica le faccio benissimo viceversa se stiamo parlando di un contesto professionale allora lì dobbiamo andare su qualcosa di un pochino più dedicato per esempio devo fare fotografie di interni e lì non posso prendermi un corpo macchina PSC con la lente kit non posso perché poi non ce la faccio a fare le foto di interni per fare foto di interni devo prendermi un sensore full frame non la miraglia un sensore full frame va bene anche l'entry level perché come detto il sensore non sarà troppo diverso il processore non sarà troppo diverso ci saranno delle differenze però la qualità il formato finale è quello quindi se io mi prendo una full frame anche entry level e un'ottica grandangolare sono in grado di fare le mie foto di interni avendo speso il meno possibile però non avendo sbagliato e non avendo preso una PSC che poi non mi dava l'angolo di campo necessario quindi questa è la cosa importante partiamo da che cosa vogliamo realizzare e in base a quello decidiamo che cosa comprare poi se vogliamo scialare perché vogliamo a tutti i costi l'ultimo modello nuovo fiammante con tutte delle features che non sappiamo nemmeno cosa vogliono dire per carità se ce lo possiamo permettere lo possiamo anche fare e uno strumento migliore ci farà lavorare meglio è come con la musica io mi ricordo quando ho iniziato a suonare ho iniziato con uno strumento che faceva schifo quindi inizi a imparare su una chitarra magari che fa schifo all'ostia perché è una cosa fatta in Cina che è costata 100 euro e tu impari a suonare su quella ti fanno male le mani non vengono bene le cose poi un momento i tuoi genitori perché magari sei piccolo oppure te la compri da solo però un bel momento i tuoi genitori dicono guarda com'è migliorato gliene compriamo una più bellina oppure te la compri da solo perché ti sei stufato di farti sanguinare le dita compri una chitarra che costa 400 euro quindi hai fatto un bel salto di qualità e ciumbia come suona cioè improvvisamente non ti fanno più male le mani improvvisamente tutte le cose che prima non ti venivano adesso ti vengono fluidissime perché? perché hai in mano uno strumento migliore che ti permette di lavorare meglio con le fotocamere succede un po' la stessa cosa adesso io non dico che con una fotocamera a miraglia la mettiamo in automatico e ci viene tutto bene perché non è assolutamente così però a parità di fotografo un fotografo scarso con una macchina fotografica bella può fare delle cose migliori un fotografo bravo con una macchina fotografica bella può fare delle cose migliori piuttosto che con una ciofechina questo vale sempre perché ovviamente lo strumento che stai usando condiziona il tipo di lavoro che fai se lo strumento che hai in mano ti permette di fare certe cose riuscirai a farle laddove con uno strumento che non te lo permetteva non ci saresti riuscito e non era neanche magari colpa tua a me capita magari di trovarmi in mano delle fotocamere non mie e vi assicuro che ogni volta che un amatore un non professionista mi mette in mano la sua fotocamera e mi dice dai dai faccio una foto vi assicuro che sono in difficoltà vi faccio un esempio così capite mi trovo in vacanza di fronte a un monumento è successo veramente qualche mese fa mi trovo in vacanza davanti a un monumento e sto facendo le mie foto spettacolari professionali del monumento che poi utilizzo per gli scopi più disparati tra cui le vendo anche online sulle varie piattaforme vi lascio in card del mio video sulla fotografia di stock e microstock se volete imparare come guadagnare qualcosa con le vostre foto anche le foto delle vacanze vanno bene sto facendo le mie foto una coppia di danesi non mi ricordo da dove venivano mi chiede gentilmente se gli faccio una foto anche a loro con la loro fotocamera ovviamente non mi rifiuto nel momento in cui appoggio l'occhio sull'oculare della loro fotocamera mi rendo conto del pasticcio che sta succedendo perché la mia fotocamera è una full frame per cui io col mio bel 16 mm parlo sempre del 16 perché poi lo uso bel 16 mm riesco a inquadrare tutta la piazza a prendere correttamente il monumento siamo vicini al monumento quindi io col 16 mm lo prendo appena sono al pelo loro mi mettono in mano questa camera una sony qualcosa una sony apsc non ho neanche guardato l'ottica perché non mi sono messo lì a guardare dentro per vedere che ottica era però era un'ottica fissa e appena ci guardo dentro mi rendo conto che non ci siamo proprio che non va bene poverini non è colpa loro loro hanno preso quella probabilmente l'hanno presa con in testa qualcosa di preciso o magari senza in testa niente non ha molta importanza magari l'hanno presa per fare ritratto è la cosa che reputo più probabile l'avevano presa per fare ritratto quella lente lì nel momento in cui io ci guardo dentro mi rendo conto che non solo non riesco a prendere loro due con il monumento completo praticamente riesco a prendere solo loro due cioè si vedono loro due con dietro il monumento sfocato dietro di me c'è la strada perché sono al limite della piazza quindi ho le macchine dietro non posso andare in mezzo alla strada indietreggiare per prenderli meglio e quindi glielo dico gli dico ragazzi io ve la faccio però vi segnalo lo saprete già che non riesco a prendere il monumento intero perché con quest'ottica non ce la si fa ecco questo è il tipico caso in cui la camera non andava bene e quindi lì io sono lo stesso io sono lo stesso fotografo di prima però con la mia io riesco a prendere la piazza intera il monumento intero con la loro io riesco a malapena a prendere loro due a mezzo busto con dietro il monumento sfocato questo perché l'ottica non era adatta per quello scatto e quindi lo stesso fotografo io non sono cambiato sono lo stesso lo stesso fotografo riesce a fare qualcosa di meglio piuttosto che qualcosa di peggio in base a che cosa gli mettete in mano quindi è importante la scelta della strumentazione è importante in base a quello che vogliamo fare perché anche il fotografo più bravo del mondo se gli mettete in mano l'ottica sbagliata se io devo fare un ritratto e mi mettete in mano una lente fisciaio se io devo fare foto di prodotto e mi mettete in mano di nuovo una lente fisciaio non ci riesco non posso farlo quindi è molto importante la scelta di quello che stiamo andando a comprare perché sono soldi i soldi sono nostri ce li siamo nel migliore delle ipotesi guadagnati se a qualcuno di voi li regalano fatemi sapere come fate lasciatemi un commento perché sono curiosissimo è molto importante scegliere con oculatezza perché è una cosa che paghiamo è una cosa che poi ci rimane è una cosa con cui potenzialmente possiamo anche guadagnare dei soldi quindi è importante che la scegliamo non bene benissimo perché ci deve servire a lungo tutte le mie fotocamere e videocamere mi servono a lungo per tutto l'arco della loro vita io ho qui delle fotocamere che hanno 10 anni e che utilizzo ancora e siccome so che cosa fanno so come utilizzarle magari le uso in luce controllata non le uso all'aperto per fare eventi perché ormai hanno dei sensori un po' vecchiotti ma funzionano ancora e le uso ancora per cui veramente è importante sapere che cosa stiamo acquistando è importante sapere che in linea definitiva il sensore sul corpo macchina ci dà tanto perché ci dà il formato finale e ci dà il rapporto con le ottiche che andremo a montare oltre a tutta una serie di bottoni e pulsanti che sicuramente ci aiutano in fase di scatto ma secondo me non sono essenziali perché l'unica cosa veramente essenziale è lo shutter possiamo avere più o meno ghiere quindi più il corpo macchina è bello più avremo delle ghiere fisiche con cui possiamo variare l'esposizione sui modelli base base magari queste ghiere non ci sono quindi dobbiamo andare dentro nei menu per fare le modifiche quindi ovviamente un corpo macchina migliore ci dà di più dal punto di vista del sensore più grande dal punto di vista dei bottoni sul corpo macchina e dal punto di vista magari dei formati finali corpo macchina più scarso che possiamo comprare invece ci darà sicuramente meno bottoni sicuramente un file d'uscita di qualità inferiore però neanche tanto e sicuramente andremo a perdere il rapporto lente sensore del corpo macchina full frame però in definitiva dipende molto da quello che stiamo facendo la prima discriminante è il prezzo se possiamo permetterci il meglio andiamo col meglio se non possiamo permettercelo andiamo col primo corpo macchina che ci possiamo permettere per quanto riguarda le ottiche le ottiche definiscono quello che il sensore vede quindi l'ottica è molto importante e l'ottica condiziona la resa finale perché un'ottica può essere da f4 e quindi può essere molto buia oppure può essere da 1,2 quindi può essere molto aperta ovviamente questo condiziona molto il risultato finale perché se vogliamo lo sfondo sfocato dovremo comprare un'ottica molto aperta e lo sfondo sfocato lo possiamo avere anche su APS-C quindi se vogliamo lo sfondo sfocato dobbiamo comprare un'ottica di qualità eccelsa come potrebbe essere per esempio un 85mm f1.2 quell'ottica costa tanto ma non è obbligatorio montarla su una full frame questa la possiamo montare anche su un APS-C perché funziona lo stesso certo l'angolo di campo cambia però lo sfondo sfocato sarà ugualmente gradevole viceversa se ci serve il grand'angolo è meglio se andiamo su un sensore full frame perché così avremo la qualità massima con l'ottica corretta per andare a lavorare su full frame bene a questo punto io ho coperto un po' di casistiche con un po' di esempi ma non posso ovviamente aver coperto tutto lo scivile per cui io vi faccio due raccomandazioni la prima iscrivetevi a questo canale perché così se torno a parlarne non vi perdete gli episodi successivi attivate anche la campanella così è meglio perché altrimenti magari vi siete iscritti ma poi ve lo perdete la seconda cosa lasciatemi un commento e fatemi delle domande se avete un'esigenza specifica se state pensando se comprare una fotocamera piuttosto che un'altra io non vi dirò mai compra quella io vi dirò sempre per cosa la devi usare perché se io capisco per cosa la dovete usare saprò dirvi esattamente quale è meglio per le vostre esigenze faccio l'ultimo esempio dai via una volta lavoravo io ho lavorato per Canon in un negozio in punto vendita facevo sostanzialmente il promoter per cui un bel giorno si presenta un cliente e mi chiede senta io faccio birdwatching che cosa mi conviene comprare era diversi anni fa la sua esigenza fondamentalmente era quella di comprare un corpo macchina a PSC perché voleva il fattore di moltiplicazione lui non voleva una full frame voleva una camera a PSC per avere un fattore di moltiplicazione in modo che l'ottica risultasse più lunga quindi partiamo da questo e questo lui lo sapeva già infatti lui sapeva di non volere una full frame però mi disse che cosa mi conviene prendere era diversi anni fa per cui le entry level a PSC di Canon avevano tutte 18 megapixel mentre io mi ricordo molto distintamente che c'erano alcune entry level di Nikon che avevano 24 megapixel decisamente di più e avevano anche dei corpi macchina che a parità di fascia di prezzo spingevano un po' di più per cui io lì a malincuore perché comunque lavoravo per Canon però l'onestà è anche importante per cui io ho detto guarda per quello che mi stai dicendo per quella che è la tua esigenza io dovrei venderti una Canon però io ti posso dare solamente questi modelli con 18 megapixel se tu vai da quel ragazzo lì che fa Nikon invece ti fai spiegare un attimino la Nikon che secondo me per quello che devi fare tu in questo momento storico con i modelli che noi abbiamo qui è meglio poi ci fai una pensata e decidi se farti vendere quella da lui o una Canon da me però io con la massima onestà gliel'ho detto guarda in questo caso secondo me solo per quella roba lì tu devi fare birdwatching hai comunque una PSC secondo me avere 6 megapixel in più ti fanno un gran comodo per cui in base a semplicemente in base a questo gli ho saputo dire su cosa era meglio orientarsi l'importante è questo capire che cosa ci devi fare con la tua strumentazione perché se sai che cosa ci devi fare ti verrà più facile decidere che cosa comprare ovviamente ci vuole anche un po' di chiarezza nella nostra testa dobbiamo avere chiaro noi che cosa vogliamo fare perché sapete quante volte ho sentito di gente che mi rispondeva io non so cosa voglio fare io sono un assaggiatore ho suonato il violino per 15 giorni poi ho fatto pesca subacquea per 20 minuti poi ho fatto due settimane di windsurf in vacanza però non ho continuato nessuna di queste cose e ora allo stesso modo voglio comprare una fotocamera ma così per tenermela al collo ogni tanto sono in giro faccio qualche foto e lì è difficile consigliare qualcosa però lì è anche vero che una vale l'altra perché se non sai cosa ci devi fare ti prendi quello che è e andrà sempre bene con questa considerazione finale io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti